Rete dei mulini del parco e siamo con Rosario Previtera e soprattutto insieme a una rappresentanza di giovani e meno giovani che oggi visita Mammola, il centro storico e soprattutto questo vecchio mulino ad acqua. Rosario, un ennesimo viaggio a Mammola alla scoperta degli antichi mulini ad acqua e qui dobbiamo dire che c'è veramente un'eccellenza. Sì, la rete dei mulini del parco è un progetto dell'associazione Sfere di Ecotouring Costa Viola patrocinato dal Parco Nazionale della Spromonte che mira a dimostrare come si possa costruire una rete dei mulini antichi. Ancora funziona la provincia di Reggio Calabria e la regione Calabria in genere sono ricchi di queste risorse architettoniche, testimonianza di una archeologia industriale e se vogliamo rurale. Vi sono ancora oggi per fortuna questi mulini antichi che danno lustro al territorio e noi abbiamo voluto dimostrare che un modello di rete si può costruire anche sulla scorta della moda, chiamiamola così, di valorizzazione degli antichi grani. Quindi antichi grani, antichi pani, antichi mestieri, antichi mulini. Siamo al mulino del Vecchio di Mammola, è una risorsa inestimabile. Con il pretesto della visita al mulino visiteremo il borgo e le eccellenze di Mammola stesso. Siamo stati al mulino del Duca del Giffone, oggi al mulino del Vecchio di Mammola, saremo al mulino della Serra di San Giorgio Morgeto e la rete proseguirà lungo i corsi d'acqua dei mulini anche delle altre province. C'è un modo per far riscoprire una filiera antica che può essere riportata alla luce e perché no per portare reddito al mugnaio, all'antico e moderno mugnaio e un indotto all'intero territorio. Dottor Pino Agostino, ancora una volta Mammola per questo gruppo, oggi alla riscoperta del Vecchio Mulino ad Acqua, a conferma di come Mammola conservi ancora questo Vecchio Mulino che è diventato ormai una vera eccellenza, poi insieme anche ai prodotti tipici. Certamente, il mulino è una testimonianza della civiltà agropastorale di Mammola di una volta, lungo questo fiume che costegge il fumino chiaro ce ne erano già 5 o 6 mulini, quindi testimoniano l'attività e il lavoro della comunità mammolese. Poi le eccellenze, andranno sicuramente poi a vedere le nostre eccellenze che sono lo stocco, il piatto per l'antanomasia della nostra comunità e la ricotta affumicata. Quindi una buona visita, Rosario mi sono complimentato a questo progetto altamente qualificato che testimonia la civiltà che avevamo una volta nelle nostre comunità. E' un appello che faccio agli enti, agli enti parchi in modo particolare, alla regione che guardi con attenzione particolare a queste testimonianze che sono un patrimonio della nostra comunità. Rosario, i prossimi grandi appuntamenti, oggi Mammola, itinerante dobbiamo dire la visita di Mammola, centro storico, i palazzi nobiliari, le eccellenze della gastronomia, le prossime invece saranno ancora in provincia. Sì, ci muoveremo di nuovo sui mulini, quindi arriveremo a San Giorgio Morgeto, anche lì grande storia, grande tradizione, per poi spostarci nei mesi successivi presso i mulini delle altre province. Il tutto nasce da un'idea derivante da un progetto che stiamo portando avanti con l'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, proprio sulla valorizzazione dei prodotti da forno regionale, alla loro caratterizzazione. Nasce quindi l'idea di tornare indietro lungo la filiera, quindi il grano e la sua lavorazione, una pagina Facebook, Mulini Antichi di Calabria, grazie a questa abbiamo scoperto l'esistenza di tante storie di coraggio di giovani e meno giovani che si stanno adoperando per ristrutturare gli antichi mulini, quindi un valore aggiunto per il territorio.